Buongiorno a tutti, benvenuti nel canale dell'Istituto Contensivo di Settimo San Pietro. Oggi siamo qui per parlare del tema l'amicizia fra i banchi di scuola. Carlo, pensi che quella giornata fra i banchi di scuola sia una vera amicizia? Sì, perché comunque è una delle prime, otto anni di scuola e di amicizia non si dimenticano facilmente e avendo una persona in banco per cinque ore al giorno è difficile non parlare e socializzare con quella persona. Sara, ci si frequenta anche fuori dall'ambito scolastico? Beh sì, ovviamente, quando hai un amico o comunque più amici si tende a uscire comunque per passare una sera fatta diversa dal solito, tipo prendersi una pizza, andare nei negozi, poi non so, perché comunque con gli amici si fanno varie cose. Annalisa, secondo te c'è più amicizia fra ragazza e ragazza o fra ragazza e ragazza? Allora, apparentemente c'è l'amicizia fra ragazza e ragazza, forse in questa classe non ce n'è nessuna di particolare, magari c'è un po' di simpatia, però non è proprio un'amicizia, non la definirei come così. Invece, forse fra ragazzi e ragazze e ragazze e ragazze, forse ce n'è un po' di più, però non è detto, perché, cioè, vabbè, la parenza è in grano, ognuno sa come percepisce in modo diverso. Lorenzo, tu hai mai subito atti di bullismo da una dei tuoi compagni di classe? No, perché tra noi ragazzi scherziamo, così mai ci sono atti di bullismo tra noi. Bene, speriamo che questa registrazione possa esservi stata utile, noi ci sentiamo la prossima volta.